Il 2022 sarà un anno decisivo per l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, sopra il luogo in queste ore del presidente della regione Vincenzo De Luca e dei vertici, Gesac, ai lavori per l'allungamento della pista a 2000 metri. Unificare Capodichino con lo scalo salernitano è una delle scelte più importanti della regione. L'obiettivo è arrivare ad avere 6 milioni di viaggiatori e anche un terminal commerciale, una svolta radicale nell'economia di un territorio. Le parole del governatore. Primo volo nel 2024, preannuncia il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, che aggiunge prossimo step la viabilità di accesso. Da qua a una quindicina e venti giorni finanzieremo con altri 27 milioni di euro la strada di accesso, quindi la viabilità di accesso e le prime infrastrutture. Quindi da qua ad un paio d'anni avremo un aeroporto completo pronto a partire e appuntare a quello che è l'obiettivo di 6 milioni di passeggeri in 5-6 anni. Un esempio virtuoso di rapporto tra pubblico e privato per l'amministratore delegato Gesac, società di gestione degli scali di Capodichino e Salerno. Dopo il post-covid satureremo di nuovo Capodichino e milioni di passeggeri in più che verranno in campagna e saranno accorti a Salerno. Abbiamo assegnato anche il progetto per la costruzione del termine di aviazione commerciale, una bellissima gara, 12 partecipanti, migliori studi di architettura europea. Lo scalo di Salerno sarà un'opportunità straordinaria per il territorio, come ricorda il sindaco Napoli. Il supporto del aeroporto di Salerno-Costa d'Amalpi è fondamentale per i trasporti regionali e per la mobilità del turismo e del trasporto civile. Credo che ci siano tutte le premesse.